Sono numeri importanti quelli che la Caritas di Pesaro ha illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa per rendicontare gli interventi messi in campo con il Fondo Emergenza Lavoro. Nel mese di maggio l'associazione ha messo a disposizione 100.000 euro per contrastare le gravi ripercussioni economiche generate dal lockdown. Oltre a questa cifra l'appello di Caritas è stato raccolto dall'Arcidiocesi di Pesaro, che ha messo a disposizione 40.000 euro. In pochi giorni, a sostegno del progetto, si sono poi aggiunte anche altre realtà del territorio, arrivando ad una cifra complessiva di oltre 195.000 euro. Beneficiari di questi fondi sono state oltre 300 famiglie per un totale di 1.183 persone. Il 66% degli interventi economici è stato destinato come contributo alla cittadinanza in difficoltà per i pagamenti di affitti e utenze, mentre altri 44.000 euro sono stati erogati sotto forma di tessere prepagate da spendere nei supermercati cittadini. Dati importanti, come riferisce il coordinatore della Caritas di Pesaro, Andrea Mancini. Al più significativo di tutti direi che sono le 124 famiglie che non avevano mai fatto un accesso a Caritas fino ad oggi, quindi sono più del 40%. Questo ci fa riflettere sia noi come operatori dei sociali che, immagino, come comunità intera. L'altro dato molto interessante è proprio il 66% di aiuti che abbiamo fatto per aiutare le persone in una situazione particolare, quella del disagio abitativo, ovvero il pagamento di affitti e di bollette. Se già prima della pandemia Caritas denunciava questo grande problema nella nostra diocesi, adesso si è solo incentivato. I destinatari sono le persone che vivono nella nostra diocesi, in particolare più di 120 dei destinatari sulle 300 domande sono famiglie all'interno dei minori. Si parla di un terzo di disoccupati, le altre invece persone che lavorano o che sono in cassa integrazione e che quindi anche subito dopo il lockdown non hanno avuto accesso immediato ai fondi, persone anche che non si sono viste rinnovare il contratto stagionale. I numeri sono numeri significativi perché quando si parla di circa 1200 persone coinvolte nel progetto Fondo Emergenza Lavoro, quando si parla di oltre il 60% mi sembra di nuclei familiari con minori, significa che è un'attenzione particolare rispetto alla fragilità anche economica e sociale presente sul nostro territorio a motivo del Covid. Ma deve essere questo anche un momento di riflessione per chiamare tutta la comunità, tutte le persone a condividere diciamo ecco delle fragilità presenti sul territorio. Noi abbiamo ogni anno da parte della CEI una ripartizione di somme in base anche al numero degli abitanti delle singole diocesi da destinare proprio attività caritative, socio-caritative e quindi da questo fondo abbiamo attinto anche questa somma da destinare a questo progetto particolare. Però va anche detto e aggiunto che ultimamente durante il coronavirus la presidenza della CEI ha dato una somma straordinaria proprio per il coronavirus, fenomeno che sta producendo tanti disagi. Quindi abbiamo attinto questa somma sia dal contributo Caritas normale, annuale che ci viene dalla CEI, sia da questo contributo straordinario che ci previene sempre dalla CEI. Sebbene ad oggi il fondo emergenza lavoro sia concluso, la Caritas di Pesaro ha deciso di rilanciare l'iniziativa utilizzando i fondi ancora disponibili per finanziare 5 opportunità di tirocinio. Abbiamo altri 14.000 euro a disposizione che diventeranno 15 per finanziare almeno 5 tirocini formativi retribuiti da Caritas, 500 euro al mese per 6 mesi. Proprio per questo rivolgiamo l'appello anche alle aziende del territorio perché appunto stiamo cercando delle aziende disponibili ad ospitare questi progetti di ripartenza.